ciao ragazzi nuovamente doppia pagella prima massimiliano allegri poi i calciatori la settimana scorsa con la fiorentina è piaciuta questa cosa quindi provo a riproporla allora prima di iniziare vorrei spendere due paroline su un piccolo discorso perché tante persone continuano a dirmi sì però tu non parli mai di quello che il problema tu fai come gli istruzzi metti la testa sotto la sabbia tu non hai il coraggio di dire che il problema della juve è quello e io torno sempre a un discorso antico scusate se sbuffo ma mi viene da sbuffare mi viene da sbuffare perché quante volte ho affrontato questo argomento chi guarda tutti i video sarà lì che se li raccoglie da per terra perché saranno caduti e c'hanno ragione però se alcune persone non guardano tutti i video e magari guardano soltanto video in cui io queste cose non le dico è ovvio che poi non le possano recepire è anche logico che dall'altra parte io non possa mettermi qui a ripetere le stesse cose in tutti i video pensando che però se poi questa persona non segue quegli altri allora impari è ovvio che in quel determinato video in quello specifico video parlo di quella determinata cosa in un altro video vado a approfondire un altro argomento quando dico che la juventus fa una partita brutta poco efficace non mi piace dove è andata bene mi viene naturale pensare che si è rivolta una critica costruttiva nei confronti di quello che è l'allenatore della juve perché la partita di sera per la juve non è stata bella è ovvio che allegri non l'abbia preparata nel migliore dei modi mi pare logico abbiamo visto qualcosa di raccapricciante lo stesso allegri va alle telecamere e dice non abbiamo fatto una bella partita per niente soprattutto nel primo tempo lo stesso allegri si sta criticando da solo non c'è bisogno di dire che se ne deve andare se ne dimettere un incompetente fa schifo e un cagone sono comunque critiche queste cose vanno scolpite nella pietra il fatto che io non dica le cose esattamente che volete sentire voi uno non mi rende scemo uno non mi rende scemo due due non vuol dire che non stia criticando perché chi viene a dirmi che non ho criticato allegri questa stagione ragazzi allora lo struzzo non sono io iniziamo e nella partita di ieri ci si porta a casa il minimo indispensabile e cioè il 6 il 6 nasce anche dalla situazione di consapevolezza che eravamo nella cacca fino al collo ragazzi il sassuolo non è una squadra facile andare a affrontare tutti in questa stagione i club della fascia alta hanno perso punti e punti importanti contro il sassuolo in primis la juventus allo stadium la settimana di halloween tra sassuolo e la sverona due sconfitte così da spazzarci la bocca e dire no ragazzi che cosa vi do dire la stagione è questa io ve l'ho già detto non sono soddisfatto nel complesso della stagione di massimiliano allegri dei calciatori di come la dirigenza aveva dato all'inizio dell'anno la squadra in mano all'allenatore che cosa devo fare che cosa devo fare io in questo momento arrivo ad accettarle le cose perché se siamo il 26 di aprile e la situazione è questa secondo me c'è poco da arrabbiarsi o sperare che nelle ultime quattro giornate di campionato la juventus si riesca a fare un'inversione del trend completo diventando una squadra che effettivamente andrà a giocare a calcio la juventus è malata ragazzi la juventus è malata perché se no la juventus sarebbe in testa al campionato in cima al campionato e banalmente addirittura l'abbiamo rischiata questa cosa siamo riusciti a rischiarla noi questa cosa di essere là in un campionato che lo sappiamo abbassato il livello medio il campionato italiano in questo momento è un campionato purtroppo mediocre ma lo sappiamo ma basta guardare tutte le partite ci guardia le partite del campionato italiano poi ci guardia le semifinali di champions o una partita di premier di alta fascia e pensiamo sulle sport diversi ma questa cosa non riguarda solo la juve riguarda tutte le squadre che cosa vi devo dire la partita di ieri sera una partita complicata in uno stadio complicato contro una squadra complicata che mette in difficoltà chiunque con la juventus con probabilmente la formazione peggiore che abbiamo visto in stagione con 3 4 5 titolari fuori con giocatori che sono stati costretti a giocare rigiocare anche se non stavano bene in posizioni strane io la vittoria di ieri qualcuno mi dico come fai a godertela come faccio a godermela come fate voi a non godermela come fate voi a non godermela sono cose diverse poi mi è piaciuta la juve no banalmente no allegra poteva preparare meglio meglio di quello che si è visto sì signori ragazzi non siamo riusciti a fare tre passaggi di fila ieri sera non siamo riusciti a costruire un'azione fatta bene da gol mi è fatto gol perché a un certo punto zaccaria recupera il pallone lo appoggia di vala e paolo per fortuna con una giocata riesce a trovare il pari e il secondo tempo meno male che ken si gira e si inventa quel gol poi due o tre occasioni le abbiamo avute nel secondo tempo il primo tempo da mani nei capelli è primo tempo incredibile dopo 20 30 minuti tira scamacca che deve parlare scesni tira berardi col destro per vottura tira raspadori per fortuna esce raspadori movimento senza palata col liberardi il gol insomma ci sono state tre quattro occasioni importanti per il sassuolo nel primo tempo che mi ha fatto dire è attenzione come va a finire stasera io nel video a caldo ieri sera vedete io non ci ho creduto neanche un secondo io ero convintissimo ieri di non vincerla sta partita ero proprio convinto di non vincerla a maggior ragione me la godo questa vittoria una vittoria pesantissima perché gli altri hanno perso qui per altri intendo quelli dietro è per consolidare il quarto posto per confermarsi in champions e anche quello davanti il napoli ha perso e ci mettiamo nella condizione di poterci aprire un nuovo campionato nella mediocrità di questo dove non sono soddisfatto di quello che è stato fatto dove credo che le colpe siano ampiamente distribuibili tra tutti gli attori protagonisti di questa stagione come i meriti i meriti e le colpe ampiamente distribuibili tra tutti ieri sera la juve che si è vista ha espresso un gioco a tratti terrificante probabilmente ingiustificabile per una squadra che ha questo monte ingaggi arrivata a questo punto della stagione questa è la juventus questa è la juventus di oggi cioè prendono lasciare e chi mi dice che allegri ha sempre fatto giocare così le sue squadre allora ragazzi mi dispiace avete la memoria di un pesce rosso non è vero perché per quanto allegri non abbia mai fatto il calcio champagne le squadre di allegri e non è vero nemmeno questo fino a cardiff le squadre di allegri quando le juventus vincevano e vincevano meritatamente all'interno del campionato italiano avevano delle partite in cui è vero non giocavamo come il napoli di sarri è vero non giochiamo come questi interi simone zaghi non giocavano nemmeno come le sassuolo non abbiamo mai giocato come sassuolo erano modi diversi di interpretare il calcio ma dove non subivamo o comunque subivamo poco non è accettabile subire tre quattro occasioni del sassuolo pulite nel primo tempo e dove comunque le nostre quattro cinque sei palle gol sette otto pulita partita c'erano quest'anno ragazzi è tutta un'altra storia quest'anno purtroppo è un'altra storia la juve di quest'anno per quanto abbia rimesso a posto la fase difensiva per quanto abbia sistemato perché adesso si prende meno gol concede troppo agli avversari ma concediamo troppo e questo ovviamente passa da come viene preparata la partita da come viene giocata la partita dalla prestazione per quanto ci proviamo segniamo poco e infatti abbiamo poco occasioni a gol pulite poi non siamo bravi nemmeno a finalizzare siamo una delle peggiori squadre nelle prime dieci di serie a siamo alla decima posizione delle squadre che finalizzano quindi vuol dire che creiamo probabilmente creiamo male e quindi finalizziamo poco proprio dall'altra parte vi dico io ho fatto due contenuti quest'anno due contenuti sulla fase di finalizzazione uno a dicembre uno l'altro giorno in cui vado a recuperare tutti i gol che abbiamo fatto nell'ultima parte vi spiego come nascono vi spiego quali sono le nostre armi forti quali sono le nostre armi deboli purtroppo sono contenuti che non vengono visti perché le persone questo non importa non importa cercare di migliorare la juventus si parla sempre della prestazione di come cercare di migliorare io due contenuti ho fatto di questa cosa non sono andati bene importerà altro non lo so e tante volte all'interno del contenuto la risposta è perché l'allenatore che abbiamo in panchina fa cagare allora ragazzi se questo è riassunto non c'è possibilità di dialogo io ci metto sempre tutta la più buona volontà del mondo nel cercare riportare di creare contenuti che abbiano un senso logico di dialogo purtroppo se a tanti non interessa e piace parlare di calcio sul livello minimo e cioè l'allenatore fa schifo la squadra fa schifo la dirigenza fa schifo allora ragazzi fine cioè fine cosa che cosa di più vi devo dire da questa cosa paggiarla di ieri e si fa presto si fa presto perché sei so presto perché sei perché sei perché la prestazione non è stata bella il risultato è stato bellissimo per quello che erano le condizioni per quelle che erano anche le mie sensazioni io devo dire la verità già il fatto che arrivi al 25 di aprile a giocare una partita contro il sassuolo e dica oi oi secondo me non vinciamo secondo me questo è già un indice di quella che è la stagione della juventus il periodo storico anche della juventus in un anno in cui quando non abbiamo fatto la partita spesso volentieri qualcosa accadeva e quando provavamo a fare una partita come con l'inter come villareal zero gol zero gol fatti tra tutto due partite è a casa quindi probabilmente noi siamo una squadra che quest'anno non può farla la partita perché durante tutto il resto dell'anno non ci si è allenati per provare a farla ci si è concentrati su altre cose all'inizio di una stagione disastrosa perché io penso che ci sia un po di memoria a breve termine in giro perché non so se vi ricordate ma io quando dicevo c'ho ancora la speranza di arrivare in champions ma io le ricordo le squintalate di merda che mi sono state tirate addosso a dirmi ma come pensi di poter arrivare in champions con questo scempio questo aborto questo schifo è impossibile guarda qua come facciamo in un modo o nell'altro vincendo partite sporche come quella di ieri sera dove gli altri magari scivolavano su quella buccia di banana e andavano dentro quella valanga di sterco che è il pareggio o la sconfitta contro una squadra che ha molto meno di te e dove te lo meriti la quintalata la badilata di sterco dove vai sempre inciampare ma io me lo ricordo come abbiamo iniziato questo campionato con due punti in quattro partite e facevamo bene o male le stesse cose in campo alla fine che facciamo oggi le partite la partita con l'empoli e la partita di ieri col sassuolo dal punto di vista prettamente dello spettacolo ma che cosa cambia ma forse abbiamo avuto addirittura più occasioni con l'empoli alla seconda giornata di campionato senza vlaovic senza la caria cornau non è andato via da cinque giorni addirittura senza ken probabilmente abbiamo avuto più occasioni lì ma se c'è una cosa sola singola che ci dobbiamo portare a casa da questa stagione di merda è la ricostruzione che si sta facendo dal punto di vista mentale e questo lo insegna il periodo in cui la juventus in campionato non era mai riuscita a perdere salvo poi perdere con l'inter e ricominciare a dubitare un po a scricchiolare perché nel momento in cui sei più lanciato e nel momento decisivo della stagione non vinci eccoci qua nella partita di ieri la vittoria di ieri è sicuramente fortuna perché non hai creato niente per costruirtela se non rimanere dentro la partita ma non hai avuto delle occasioni da gol clamorose hai avuto probabilmente l'unica sul risultato di 1-1 nel secondo tempo il colpo di testa di Morata che poi consigli deve tirare fuori dalla porta con quella mezza parata dove è stato anche molto bravo però è stata una macro occasione più il tiro eventualmente di Morata che esce sul lato sono due occasioni in un tempo è un po poco la terza è entrata sì però diciamo che la difesa del sassuolo non è stata sollecitata così tanto la fortuna di riuscire con quattro quattro occasioni bene o male perché il colpo di testa di Morata subito dopo il gol di Ribala sul cross di risciglio che lancia alto io non me la sento di contarla come occasione sì è un'occasione ma l'abbiamo proprio sprecata non ci siamo andati nemmeno vicini quindi quattro se volete quattro e mezzo con quella in una partita è un po poco contro il sassuolo con questa juve è un po poco e ragazzi nessuno dice il contrario è un po poco e nessuno è contento di quello che ha visto della juventus perché almeno nessuno io parlo per me io non sono contento di quello che ho visto e se francamente mi sono anche rotto stagione dopo stagione di arrivare a questo periodo dell'anno e dire dio no speriamo che finisca in fretta perché non ne posso veramente più è brutto perché il calcio dovrebbe essere divertimento dovrebbe essere svago dovrebbe essere distensione invece calcio calcio ormai è diventata per me un lavoro per tanti quasi più un ossessione una volontà di dimostrare che allora e si appesantisce sempre il tutto si è perso si è perso completamente dal punto di vista del tifoso che deve tifare ed esultare se la squadra vince io ieri sera al gol di moise cane come avete visto sono esploso e la gente mi chiede e ma come hai fatto esultare ragazzi allora sarò strano io sarò strano io ma sono sempre cresciuto con la concezione di calcio che sono tifoso della juventus la juventus fa gol esulto la juventus prende gol sono triste mi incazzo la juventus vince sono felice la juventus perde o pareggia non sono contento poi apriamo la discussione su come siamo arrivati a quel risultato positivo o negativo e se si perde o si pareggia ancora di più siamo autorizzati ad andare a vivisezionare ancora meglio per capire quali sono i problemi ovvio che poi non ci basiamo su una sola partita dobbiamo basarci su un arco il fatto che la juventus quest'anno stia riuscendo a fare questa continuità di risultati con qualche cosa traballante per me è già incredibile post mercato un po' meno post mercato meno perché ragazzi bene o male io ve lo dico da quando sono arrivati Vlaovic e Zaccaria secondo me siamo se non la prima forse la seconda squadra a livello di rosa sulla carta migliore della serie a forse dietro solo l'inter però stiamo vedendo questo campionato com'è campionato in cui il napoli fino a una settimana fa credeva nello scudetto è almeno uno da noi che abbiamo fatto un'annata di merda a livello allucinante in cui veramente facciamo fatica ad avere delle idee di gioco lucide chiare delineate negli ultimi mi verrebbero a dire 20 30 ma magari facciamo negli ultimi 50 quindi dalla metà campo avversario in su perché tante volte non sappiamo se dobbiamo ripartire veloce se dobbiamo schierarci se siamo messi 4-4-2 se dobbiamo solo difendere 4-4-2 se sulla sinistra il rabbio deve stringere o deve spingere se deve aprirsi o se deve stringere per far salire l'Alexandro non si capisce mai in un momento della partita così in un momento della partita con la e questo questo è quello che chiede allegri dalla panchina e alzati e stringiti e fai questo per forza di cose come facciamo poi a sapere che cosa dobbiamo fare è impossibile giocare a memoria se ogni volta intanto una formazione diversa perché nessuno lo dice mai ma ragazzi ma negli ultimi due anni tra pirlo e allegri zero formazioni continuative cioè zero volte che abbia messo la stessa formazione due volte di fila negli ultimi due anni soltanto sarri negli ultimi tre ha dato continuità all'inizio dell'anno e sulla fine dell'anno e nel mezzo dell'anno ha avuto 3-4 squadre titolari diverse sarri però ha fatto dei blocchi in cui faceva giocare quella lì e quella lì era e l'anno prima ancora l'ultimo di allegri ancora una volta non c'era mai stata una formazione uguale per due giornate di fila quindi negli ultimi 4 in tre occasioni non abbiamo mai confermato la stessa formazione e allora questi secondo me sono dati che fanno paura e questi sono dati che ti spiegano perché negli ultimi quattro anni la juventus da squadra da battere modello da imitare formazione incredibile è arrivata a esonerare quattro allenatori in quattro anni è arrivata a giocarsi prima lo scudetto che lo vincevi poi lo scudetto che forse lo perdevi poi lo scudetto che l'hai perso poi lo scudetto che non sei mai rientrato in corsa la champions che era assicurata poi la champions che era traballante poi la champions che adesso sembra confermata però se inizia a mollare le ultime partite perché io guardo il calendario e la classifica oggi dico se non arriviamo in champions quest'anno in questa condizione dopo che abbiamo ricreato la possibilità di un seguimento incredibile danni prima atalanta poi adesso la roma che insegue con la fiorentina nazi se non ci arriviamo siamo dei deficienti siamo dei deficienti perché dipende tutto da noi abbiamo quattro partite da giocare e abbiamo la possibilità di farlo e in più abbiamo anche la possibilità di vincere un titolo chiudere sta stagione battezzata di merda da inizio anno nel momento che ronaldo dice sai cosa me ne vado via ho iniziato a dire aia aia e avere la possibilità di rimetterla in piedi con un terzo posto che mi migliora il piazzamento del quarto l'anno scorso ed eventualmente un titolo che non saranno due come l'anno scorso che non sarà lo scudetto come l'anno prima che non sarà il double come l'anno prima ancora ma stiamo sempre pur parlando di una stagione di merda e non possiamo accorgercene al 25 di aprile una gara contro il sassuolo che la juve è questa la juve è questa lo sappiamo fine finiamo la stagione così perché non c'è la possibilità di cambiare adesso o almeno mi sentirei anche quanto meno preso per il culo a vedere la juve che adesso magicamente inizia a giocare non ci credo posso dire che non ci credo soprattutto se dopo che ci abbiamo provato e ci abbiamo provato nelle partite più delicate dell'anno e quindi probabilmente ci meritiamo quello che ci è accaduto perché a un certo punto te lo meriti se no devi iniziare prima a provare a costruire quelle partite lì devi farlo con delle squadre molto più abbordabili per capire se eri in grado di se lo fai in quelle partite lì e ti vanno male allora te lo meriti ora te lo meriti c'era a pensarci prima ragazzi queste sono le mie analisi io non so che cosa dire a me sembra quest'anno di essere stato iper critico nei confronti della juventus sempre senza mancare di rispetto a nessuno e sempre cercando di spiegarvi perché secondo me ad oggi le cose purtroppo stanno andando male se poi qualcuno vuole le urla e la distruzione della casa e la merda lanciata sulle persone non la troverà qua che cosa devo dire grazie